allora eccoci al secondo appuntamento per l'andrologia però prima tappa di una microserie all'interno della serie dell'andro podcast series che riguarda gli accoppiamenti con semi refrigerato oggi iniziamo la prima di due tappe che vi guideranno nella comprensione di qualche trucchetto pratico per avere successo in accoppiamenti con semi refrigerato qui in questa prima parte faremo un piccolo viaggetto nei suggerimenti pratici per ottenere dei tassi di gravidanza sovrapponibili ad uno monta naturale in accoppiamenti eseguiti con semi fresco che sia stato refrigerato dai vostri maschi a 4 gradi centigradi allora intanto cosa significa semi refrigerato qui vedete 60% cosa significa non è il tasso di concepimento generato con questo tipo di semi ma è la quantità di allevatori che oggigiorno preferiscono questo metodo piuttosto che prendere la femmina e spostarla anche per grandi distanze al domicilio dello stallone questo metodo negli anni si è migliorato a tal punto che è risultato ad oggi eccellente per riuscire ad accoppiare due soggetti che risiedono anche a distanze geografiche enormi l'uno dall'altro senza che nessuno dei due debba fisicamente spostarsi per gli accoppiamenti internazionali è diventata una pratica rutinaria purtuttavia sono richiesti degli accorgimenti particolari oggi iniziamo a darvi qualche suggerimento per avere successo con questa pratica diciamo che i maggiori risultati sono raggiunti quando la raccolta seminale è correttamente preparata quando i candidati per questo tipo di spedizioni sono stati correttamente selezionati quando c'è stato un accuratissimo monitoraggio dell'ovulazione femminile dalla porzione appunto femminile della coppia e quando si è ricorso a professionisti del settore preparati e formati in modo adeguato per allestire ed utilizzare questo tipo di materiale quando conviene utilizzare seme refrigerato? allora diciamo che l'80% dei successi si ottiene se il seme è stato refrigerato correttamente e il monitoraggio della femmina è stato fatto in maniera adeguata sono diversi i fattori che concorrono a determinare questa percentuale 8 cagne su 10 rimangono correttamente gravide utilizzando il seme refrigerato e la percentuale non è molto diversa da quella che è una monta naturale 8 cagne su 10 rimangono gravide ma significa che comunque 2 cagne su 10 possono rimanere vuote anche dopo che tutto sia stato eseguito perfettamente e a regola d'arte di certo io uso dire che gli accoppiamenti con seme refrigerato per chi è debole di cuore non sono idonei o adeguati non sono proprio la scelta più corretta per chi è ansioso è opinione comune che a causa delle cattive esperienze di chi non è stato proprio ben indirizzato o chi ha avuto appunto intoppi nella procedura è opinione comune che il proprietario della femmina sia sempre la controparte che sta alla mercè degli eventi e delle spedizioni perché non si sa mai cosa parte, cosa arriva, se il seme arriva vivo, morto, buono, pessimo inoltre c'è sempre la concorrente parte e porzione dei corrieri che può complicare le cose anche se queste sono state effettuate ed organizzate nel migliore dei modi ecco perché nasce questo insieme di trucchi e trucchetti che vi guideranno passo passo nella comprensione dell'importanza di fare le cose bene e in maniera programmatica intanto come si determina se un soggetto è adatto per un accoppiamento di questo tipo tanto per cominciare ed è la cosa che tutti quanti chiedete assolutamente e sempre e anche in casi di monte naturali i soggetti che devono accoppiarsi non devono avere sottostanti patologie sarebbe meglio che fossero di età compresa tra i 2 e i 6 anni rispettivamente minimo e massimo sia per il maschio che per la femmina e che abbiano delle clearance sanitarie certe dimostrabili queste regole valgono ovviamente sia per lo stallone che per la fattrice la riproduzione con seme e refrigerato non è, e lo diciamo subito un trattamento, la panacea dell'ipofertilità o dell'infertilità cagne con problematiche di ipofertilità o che hanno sperimentato in successi riproduttivi dovrebbero essere coperte preferibilmente solo da maschi reperibili in monta naturale o fecondate con seme fresco io sconsiglio di investire del denaro su seme refrigerato o congelato quando non si è certi che dal lato femminile sia assolutamente tutto a posto cosa dobbiamo attenzionare? sul maschio, qualità, concentrazione e ovviamente motilità e morfologia adesso in questo canale voi avrete visto che c'è un episodio dell'androsiris che vi lascio in descrizione per andare a verificare come si fanno questi controlli ancor più nel caso del seme fresco le caratteristiche del seme refrigerato vanno assolutamente attenzionate con un riguardo molto particolare e maschi che hanno problematiche di qualità seminale possono produrre una buona cucciolata se usati a fresco e in monte naturali ma possono non essere adatti alla refrigerazione quindi ciò che dobbiamo attenzionare è selezionare candidati con ottima refrigerabilità e questo ci eviterà di gran lunga problemi di mancato concepimento quindi richiesta di ripetizione di monta perché magari stiamo utilizzando un seme che non refrigera in modo adeguato come si effettua la selezione dei candidati? la selezione dei candidati si effettua attenzionando alla qualità che deve essere caratterizzata dal 70% minimo di motilità progressiva le anomalie morfologiche devono sempre essere inferiori al 20% la conta spermatica per la razza deve essere assolutamente nella norma il range normale di un soggetto adatto alla refrigerazione varia fra i 500 milioni e il miliardo e mezzo di spermatozoi totali valga la regola che la quantità minima che un soggetto normale, normofertile, maschio dovrebbe produrre sono un minimo di 10 milioni di spermatozoi per kg di peso corporeo e i limiti stanno nel fatto che cani con meno di 200 o 300 milioni di spermatozoi in totale nell'eiaculato andrebbero assolutamente scartati e come si effettua una buona collezione come viene effettuata? per una buona collezione il cane maschio deve assolutamente consentire una raccolta che avvenga in modo semplice, una raccolta easy e deve osservare un riposo sessuale di almeno 60 giorni prima della raccolta si suggerisce che i cani utilizzati per le spedizioni di seme refrigerato siano stati già testati sia in monta naturale che artificiale come dicevamo buona norma sarebbe garantire appunto un riposo sessuale adeguato prima di una collezione di seme da allestire in maniera refrigerata è inutile dire che il proprietario non dovrebbe mai accettare di coprire altre femmine che eventualmente richiedano un servizio quando viene richiesta una spedizione di materiale refrigerato ricordiamoci sempre che la spermatogenesi richiede circa 60 giorni un ciclo spermatico completo quindi la formazione di un pool nuovo e fresco di spermatozoi nel cane maschio richiede 60 giorni più altre due settimane circa perché gli spermatozoi siano pronti alla fecondazione dell'ovocita le prime due collezioni dopo un periodo di riposo sessuale di solito sono le migliori quindi che cosa ci aiuta nel processo di raccolta ovviamente come abbiamo sempre detto e come abbiamo ripetuto ed illustrato anche nel precedente podcast la presenza di una femmina in estro aiuta a produrre fino al 50% in più di spermatozoi nell'eiaculato io mi aiuto anche in un altro modo nella mia struttura si utilizza una stanza solo dedicata ai prelievi quindi i cani di solito quando associano che vengono condotti in quella stanza sanno che andranno ad essere prelevati e diciamo che generalmente accettano la cosa assolutamente di buon grado perché si abituano a questo tipo di manipolazione potete anche addestrare i vostri stalloni ad essere collezionati con un particolare guinzaglio con un collare particolare questa associazione li aiuta a ricordare ogni volta che vi mancherà la femmina in calore a disposizione vi aiuterà a ricordare che quell'oggetto è legato ad un'esperienza che per loro non è stata traumatica vediamo come si esegue il test per un seme che deve essere refrigerato la prima cosa che viene fatta è raccogliere esaminare la motilità e la morfologia complessive e quindi procedere all'allestimento della refrigerazione il materiale viene allestito in apposito diluitore viene mantenuto refrigerato per sette giorni con un controllo giornaliero sulla vitalità questo è il test del seme che deve essere spedito non la raccolta per la spedizione non ci sogneremmo mai di prelevare sette giorni prima di dover spedire nel test si valuta appunto come refrigera uno stallone il candidato ideale per questo tipo di procedura avrà un 70% di motilità iniziale o più che va a decrescere solo del 10% o del 15% nelle prime 24 ore alcuni cani mantengono una buona qualità una buona motilità anche a 5 giorni dalla raccolta il diluitore non farà certo miracoli perché il diluitore non è la panacea e il suo ruolo infatti è quello di mantenere assolutamente il seme vitale nutrendolo adeguatamente sino all'utilizzo quindi non fatevi abbindolare da miracoli di varie aziende che dicono lo facciamo durare, lo facciamo muovere di più non esiste il diluitore serve solo a mantenere vitale gli spermatozoi per un tot di tempo secondo quanto comunicato dal produttore ho avuto in struttura due o tre casi di cani il cui il seme sopravviveva molto a lungo anche se refrigerato uno è sopravvissuto in frigo al test di refrigerabilità 7 giorni e uno addirittura 10 ma sono casi rarissimi per cui solitamente il seme ha la miglior resa se utilizzato entro le prime 48-72 ore dall'allestimento è vero che alcuni cani hanno un seme che si mantiene anche di più ma i migliori risultati vengono ottenuti se è possibile inseminare a 48 ore massimo dalla raccolta il seme comunque deve poter sopravvivere adeguatamente deve essere ben preparato e mantenuto assolutamente ad una temperatura costante che oscilla tra i 4 e i 5 gradi centigradi i box di spedizione di cui disponiamo sono progettati proprio per mantenere questa temperatura di 4 gradi fino a circa 72 ore che è il tempo necessario per raggiungere il 90% delle destinazioni possibili sia in Europa che all'estero fuori dall'Europa ovviamente e se il mio stallone non ha mai riprodotto? i maschi vanno testati sicuramente prima che ci venga richiesta una monta con un seme esteso o allestito bisognerebbe sottoporli a maturità sessuale al cosiddetto chill check e bisogna che questa pratica venga eseguita da un medico veterinario specialista in riproduzione opportunamente formato per le spedizioni nazionali è sufficiente un seme che sopravviva fino a tre giorni per quelle internazionali è necessario che il seme sia di buona qualità anche dopo 5 o 6 quindi abbiate cura di parlare con uno specialista ricordiamo che noi siamo sempre comunque a disposizione per consulenze esterne per prevedere un chill check sui vostri stalloni che non hanno mai effettuato una pratica di questo tipo alcuni allevatori mi chiedono se possono preparare da soli la collezione non è una cosa illegale potete farlo assolutamente dovreste formarvi per poter collezionare correttamente saper diluire nel modo opportuno fornire tutte le indicazioni al proprietario della femmina per il corretto riallestimento ed utilizzo a seconda della marca di diluitore che utilizzate e dovrete anche disporre di opportune attrezzature per poter fare tutto questo abbiamo in programma un corso pratico di allestimento di seme refrigerato per allevatori questo potete farlo non è illegale ripeto perché il proprietario del maschio può formarsi per prelevare e allestire da solo il seme dei propri stalloni purché non richieda un compenso economico per l'opera appunto di prelievo e allestimento e soprattutto che lo faccia solo ed esclusivamente sui propri maschi e non su maschi di proprietà di altri allevatori vi terremo aggiornati sul corso di formazione previsto per gli allevatori per chi si fosse iscritto adesso al canale può consultare il sito web www.emgvet.it che trovate in alto a destra nella pagina principale del canale MGVet Pets & Co e potrete iscrivervi alla newsletter o inviare un'e-mail per conoscere le modalità di fruizione del corso Quante dosi devo inviare? Spesso è sufficiente un accoppiamento nel periodo di maggior fertilità della femmina purtuttavia sappiamo tutti che possono accadere degli inconvenienti durante l'invio la spedizione può tardare o lo stallone magari quel giorno è in fase e può non dare abbastanza per una collezione adeguata ci possiamo trovare in coincidenza con il weekend e il seme può non essere stato frazionato correttamente la qualità può averne risentito possono succedere tantissime cose che soluzioni abbiamo? l'unica soluzione che mi sento di suggerire è quella di programmare due spedizioni in due giorni consecutivi per poter dare la possibilità al proprietario di avere un lifespan ampliato proprietario della femmina ovviamente non ha alcun senso dividere la singola collezione in due dosi perché è la stessa collezione dello stesso giorno e che si utilizzi tutta in una volta o una un giorno o una un altro se la collezione è del giorno stesso è chiaro che la seconda verrà utilizzata il giorno dopo è più vecchia di un giorno e di qualità peggiore quindi non state aiutando la fertilità state semplicemente facendo una cosa a mio parere completamente inutile cosa succede se il seme e sarà successo a tutti che il seme all'arrivo sia deceduto o di cattiva qualità? il seme DOA che è un acronimo per Dead on Arrival di solito si congela e quello che si è congelato durante il trasporto questo accade solo ed esclusivamente per una ragione il packaging non è stato effettuato in maniera corretta suggerimento numero uno mai mettere le provette di seme troppo vicine al mattoncino congelato perché il solo contatto della provetta con il mattoncino può determinare un accidentale congelamento anche se il seme può essere scongelato all'arrivo può essere trattato il congelamento troppo precoce non effettuato in maniera graduale danneggia irrimediabilmente la membrana citoplasmatica degli spermatozoi e quindi ne compromette seriamente la fertilità in regimi climatici molto rigidi in inverni particolarmente intensi si può utilizzare nei box di cui disponiamo che sono progettati per avere due slot per i mattoncini di congelamento cioè mattoncini congelati quindi per la refrigerazione se ne può utilizzare uno completamente congelato e un altro mantenuto refrigerato è sempre comunque un'opzione borderline perché il produttore ci assicura il mantenimento di una temperatura costante di 4 gradi all'interno del box se i siberini sono correttamente posizionati e vengono correttamente congelati prima dell'uso la temperatura comunque non deve mai diventare troppo rigida un'altra causa che può portare al decesso del seme durante il trasporto è sicuramente un cattivo allestimento significa che la frazione spermatica non è stata adeguatamente separata da quella prostatica un eccesso di frazione prostatica all'interno del liquido seminale può condurre a seri danni agli spermatozoi quindi è necessario, estremamente necessario frazionare in modo corretto e sottoporre il seme ad una corretta centrifugazione prima dell'aggiunta dell'extender come si impara a frazionare? 10, 50, 40 ricordatevi che queste sono le percentuali di frazione pre-spermatica il 50% è frazione spermatica e il restante 40 e poi buttiamo via è la frazione post prima, seconda e terza frazione devono essere raccolte separatamente la pratica ovviamente aiuta ad imparare a farlo in generale valga la regola che il volume consente di predire se è necessario la necessità di centrifugare come? per le razze piccole se la frazione spermatica raccolta ha un volume superiore ad 1 ml centrifughiamo e separiamo per le razze medie se la frazione spermatica raccolta è superiore ad un volume di 1 ml e mezzo centrifughiamo e separiamo per quelle grandi il volume se è superiore a 2 ml occorre centrifugare per quelle giganti è necessario che il volume eccedente sia superiore ai 2,53 ml perché sia necessaria la centrifugazione ci accorgiamo proprio da questo quindi razze giganti 2,53 razze grandi 2 ml di frazione spermatica razze medie 1,5 razze piccole 1 ml queste sono le quantità quasi alla fine della presentazione e di questo primo step domande per il proprietario della fattrice 1 come sarà determinato il periodo fertile della femmina occorre dire che il successo del procedimento è altamente influenzato sia dal lato maschile quindi dalla qualità del seme ed è ovvio ma soprattutto dalla corretta esecuzione di un monitoraggio dell'estro femminile è essenziale è essenziale che la controparte faccia un timing esegua un timing accurato del ciclo estrale della fattrice se il proprietario della fattrice non è intenzionato ad investire su un monitoraggio corretto abbiate sempre il coraggio di sottolineargli che questo sarà un colpo a salve con una buona probabilità malgrado la vostra qualità sia eccellente se il monitoraggio della fattrice non è fatto in maniera impeccabile quasi sicuramente si è destinati al fallimento 2 che tipo di inseminazione sarà effettuato una volta che il seme sarà arrivato a destinazione se il cane non ha mai effettuato prove di refrigerazione sarà come ho detto già il caso di iniziare a farlo il seme di un maschio che possiede una qualità eccellente in refrigerazione non avrà alcun problema indipendentemente da quello che poi sarà il metodo utilizzato per l'inseminazione che sia vaginale o intrauterina mentre un cane che presenti problemi di qualità dopo la refrigerazione non si presterà assolutamente ad un'inseminazione vaginale e sarà necessario investire sulla TCI intrauterina o addirittura su una inseminazione di tipo chirurgico 3 domanda numero 3 con quanti giorni di anticipo sarò avvisato della necessità di spedire non pensiate che la mattina il proprietario della femmina si alza spedite mandate perché la femmina ha 12 assolutamente no concordate sempre prima un preavviso di almeno 2 barra 3 giorni quindi fatevi avvisare sempre il suggerimento numero 2 quando la femmina è a parametri di picco di LH così si ha il tempo di organizzarsi per la raccolta per l'allestimento per l'adeguatezza di ogni singolo passaggio quindi chiedete sempre al proprietario della femmina un congro preavviso anche e soprattutto per essere certi per gli stalloni che sono particolarmente impegnati che il vostro maschio non abbia altre monte calendario nei giorni in cui è prevista questa spedizione importante adesso un piccolo trafiletto sulle abitudini internazionali in USA negli Stati Uniti e in alcuni stati è concesso accoppiare una femmina anche a due maschi diversi nello stesso ciclo e questo tipo di accoppiamenti si chiama Dual Sire Breeding nel caso nello stato di destinazione questa pratica sia concessa potete anche nel caso in cui il vostro maschio opzione A non refrigeri bene potete anche decidere di spedire nello stesso invio un secondo maschio di backup che potesse essere utilizzato in alternativa che possa essere utilizzato in alternativa oppure chiedete comunque sempre al proprietario della femmina se dispone di un piano B nel caso che il vostro cane non sia idoneo alla spedizione con il refrigerato e ricordatevi di essere assolutamente sempre onesti con il proprietario della femmina circa la qualità del materiale seminale che andate a spedire di spedire sempre uno spermiogramma effettuato dal vostro specialista per aiutare nella decisionalità anche il collega ricevente e insomma siate sempre assolutamente onesti vi aspetto alla prossima tappa di questo breve giro nella spedizione refrigerata e vi saluto vi invito a cliccare mi piace sul video se ovviamente vi è piaciuto e di attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti dei nuovi video che andremo a pubblicare grazie ciao alla prossima